Stabile piazza affari, che non aggancia al trend moderatamente rialzista dei principali mercati europei In luce sul listino milanese il comparto vendite al dettaglio, più 2,46%. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nel comparto media, meno 0,73% Lieve calo dello spread, che scende a più 173 punti, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 4,04% Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, pubblicato il dato sul PMI composito in Unione Europea, pari a 47,6 punti, e il dato sulla produzione industriale in Francia, pari a meno 0,3%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione dell'ISM non manifatturiero e del PMI servizi Grazie a tutti